Buongiorno a tutti, stiamo nel comune di Montoya, questa è una frazione chiamata Bocchignano, l'immobile che andiamo a vedere adesso è dentro un centro storico, passando da questo piccolo corridoio, andiamo a vederlo, lo andiamo a visitare. Come vedete è un paesetto proprio caratteristico, una borgata, questo è uno dei più centri storici, più antichi. Proseguiamo la nostra visita e continuiamo il nostro cammino verso l'appartamento, di cui è un appartamento di 65 metri quadrati con una cantina di 25. Come potete vedere è una borgata molto simpatica e caratteristica. Allora signori eccoci qua, siamo arrivati. Questa è l'entrata dell'immobile, però andiamo a vedere prima la parte della cantina, che sarebbe questa cantina qui, dove c'è anche questo stema che è molto antico, è del 1600. Queste sono le finestre, porta due finestre questa cantina, eccola qui, uno e due, e si espande per 25 metri. Ora andiamo a vedere l'immobile. Nell'immobile abbiamo la particolarità di questi gradini, che sono un po' originali e esistenti. Qua abbiamo, scusatevi per il buio, purtroppo qui è sempre un centro storico, non sappiamo la luce, e un po' buio, questa sarebbe la cucina. Poi saliamo sopra, sempre da questa scalinata fatta col cotto originale. La casa è composta da tutti i termosiponi perché ha tutti quanti, ha gas, luce e acqua. E acqua, questo è un bellissimo cammino, funzionante, questo è tutto il giorno, praticamente. Una cosa particolare, l'aria è sempre in legno, riscaldamento autonomo e per di più c'è anche l'aria condizionata. Ma dopo ve lo faccio vedere. Qui, essendo i soffitti molto alti, c'è la possibilità di fare anche un soppacco. E qui abbiamo uno sgambuzzino, che sarebbe il locale Caltaglia, dove uno potrebbe utilizzato per metterci la dispensa e cose varie. Signori, io con quest'ultima bellissima immagine, io vi saluto e ci vediamo agli appuntamenti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!